Ho fatto l'esame di maturità adesso. Hai fatto questo collegamento interessante nella traccia dedicata a Piero Angela anche con l'intelligenza artificiale? Ho parlato praticamente di quanto l'uomo in quest'ultimo periodo sta sempre più inventando, sempre di più creando nuove tecnologie che poi dopo gli impediscono di arrivare e sviluppare delle attività che magari prima erano normali come per esempio la macchina fotografica che parlava appunto Piero Angela, parlava della Kodak che adesso non è più utilizzata perché ci sono le macchinette digitali. Quindi questo succede anche con l'intelligenza artificiale secondo cui appunto poi molte delle domande che vengono fatte si fanno all'intelligenza artificiale perché non si ha voglia di cercarle in un altro modo.